Sicuramente a tutti è capitato almeno una volta di essere convinti, di conoscere una persona e poi magari con il passare del tempo si scopre che questa persona ha dei segreti che non sono stati rivelati nemmeno a te ed è difficile a volte cercare di convivere con questa cosa non si sa se per una sorta di protezione o di pudore questi certi meccanismi, certi segreti non vengono mai rivelati questa è una di queste storie, di una persona riconvinta di conoscere un'altra e a un certo punto scopre dei segreti inconfessabili ma non per questo il rapporto fra queste due persone cambia perché qualunque sia l'eventuale errore che c'è stato se due persone si vogliono bene questo passa soprattutto, è una canzone che si chiama Novembre Mattino grazie a tutti 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 grazie a tutti